Buongiorno al popolo di Youtube, come si va? Tutto bene? Sicuramente tutto bene. Allora, un attimo su, il trend che ho dato in diretta è venuto fuori, la previsione ovviamente è ancora in corso, poi ho dato quella super previsione sul ruoto U, adesso attenzione a 9.90, 9.90 sulla ruota di Genova e Milano, qui il 90 si aspettava perché è sortito due volte e quindi la terza, mentre qui sulla ruota di Venezia, un attimo su, tutti quelli che hanno la tecnica, l'opuscolo del merito 9.90, andiamo a vedere la condizione che c'era, ovviamente su ruota unica, eccola qua, del 9 aprile, voi avete ovviamente l'opuscolo, vedete che su Venezia c'era il 90, ok? A che colpe è uscito? Vediamo un po', un, due, tre, quattro, sesto colpo, però ovviamente qua parliamo di ruota unica, ok? Quindi occhi a Genova-Milano, il 45 e 54 dell'enotto di aprile è venuto fuori, e che cosa dire? Stiamo avendo delle belle soddisfazioni, su questo non si discute. Speriamo questa sera di fare un bel bubù, da Leone è tutto, ciao ciao!